Al termine di una giornata convulsa è scaduto il termine perentorio per il deposito delle domande di iscrizioni alla divisione unica di Lega Pro. Una domanda propedeutica alle successive verifiche della Covizoc necessarie per stabilire la definitiva missione al campionato. Non presentarla avrebbe significato autoescludersi dal prossimo torneo di terza serie nazionale. Questa è la regione per la quale sono stati depositati numerosi fascicoli incomplete e mancanti di alcuni degli allegati prescritti dalle norme federali. Sono almeno 10 le società in affanno, tra queste il Padova, che non avrebbe presentato la garanzia bancaria da 600.000 euro richiesta. Fide di uscione mancante anche per Grosseto, Ischia, Mantua e Propatria. Parecchi problemi pure per la regina, la cui documentazione risulta incompleta. Mancherebbero diverse liberatorie. Criticità legate all'impiantistica invece per Casertana, Melfi e Savoia. Entro il termine perentorio di martedì 15 luglio, tutte le situazioni irregolari dovranno essere sanate. L'eventuale completamento delle richieste non cancellerà tuttavia le penalizzazioni a pioggia che si abbatteranno sicuramente sul prossimo torneo. Il 18 luglio sarà il Consiglio federale a comunicare in modo definitivo l'organico ufficiale della Serie C Unica.